Sarà operativo a partire dal giovedì 21 dicembre a Silvi il supermercato Solidale La Formica, il social market promosso dal comune in collaborazione con una nutrita rete di soggetti e associazioni del territorio, con l'obiettivo di distribuire prodotti alimentari a non solo le famiglie residenti in difficoltà economica. Una risposta dall'amministrazione di un progetto che è partito alcuni anni fa su indicazione dell'AERN, un nino di Giuseppe, inventore della Formica, che sta dando tantissimi risultati su vari territori. Silvi aveva bisogno di una cosa del genere. Nel market che sarà aperto il giovedì potranno accedere solo i beneficiari della social card emessa dopo una valutazione in base a precisi requisiti dal comune. Funzionerà facendo una domanda presso gli assistenti sociali, per tutte le persone che avranno un ISEA al di sotto dei 7.500 euro, gli verrà data una carta prepagata perché all'interno del mercato, del social market, non ci saranno circolazioni di denari e in base alla loro situazione familiare gli verrà dato un credito che potranno spendere settimanalmente per un periodo di tempo. L'obiettivo è quello di aiutare coloro che si trovano in una momentanea difficoltà economica nel più ampio rispetto possibile per la persona. Ci sono le associazioni di volontariato, protezione civile, Croce Rossa, Agessi, i Lion come organizzazione, anche la fondazione Tercas che ha creduto con noi finanzandoci una parte di questo progetto, ma in questa start-up la parte da Leone l'ha fatta Conad che ci ha dato veramente una grossa mano. La sede di Via L'Europa è stata arredata con gli articoli esposti e diversi per tipologia. Le persone potranno scegliere i prodotti più idoni per il numero di buoni che hanno a disposizione. Siamo partiti dieci anni fa con la ideazione di questo progetto, portandolo in politica fra i nostri amministratori. È una giornata bellissima perché vedere il progetto realizzato a Silvi è qualcosa di bello e penso che debba essere uno di quei progetti che dobbiamo condividere con le comunità delle terre del Cerraro perché dobbiamo parlare di una comunità unica e dobbiamo dare gli stessi servizi e dobbiamo leggere le necessità delle nostre gente, delle nostre famiglie.